Gonzalo Higuain vince la Juve ma tu con i denti te la vai a riprendere ancora meno tre, si continua a sognare? Sì, è una partita come tutto importantissima, non solo dobbiamo continuare nella strada di vincere per stare lì, ma continuare, manca un'autopartita, un'autofinale, dobbiamo continuare così con questa voglia e con questo sogno che ancora è possibile. 29 gol per te, l'ultimo è un capolavoro e il colpo del campione, Gian Gonzalo. Sì, per fortuna, come ti ho detto prima, abbiamo vinto una partita difficilissima che ha iniziato con il gol in contra e, bueno, l'importante adesso è, come ti ho detto, continuare a lavorare, adesso c'è la sosta e dobbiamo continuare con più forza di prima perché, come ho detto, manca un autofinale. Napoli ti ama come ha amato solo Maradona, che sensazione ti dà? Eh, orgoglio, ringraziamento a loro, penso che stiamo facendo di tutto per trovare questo sogno e dobbiamo continuare con questo lavoro, dobbiamo continuare a lottare così. Insomma, il Napoli non molla. Speriamo a continuare così, come ho detto prima.